Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Vi era anche Orban, Vittorio Orban, il presidente dell'Ungheria, al raduno di Pontida, lo storico raduno della Lega, un raduno che ha una sua storia e che in qualche modo ha accompagnato in questi anni la Lega. È stato detto giustamente, a mio giudizio, che i meridionali che partecipano con entusiasmo al raduno di Pontida sono l'equivalente dei tacchini che celebrano il giorno del ringraziamento, dato che, come è noto, la Lega era partita con posizioni decisamente non vicine al meridione. Saranno cambiate le cose, si dirà, ma in qualche modo non si può nemmeno cancellare la matrice antimeridionalista della Lega della Primora. In ogni caso, a Pontida c'era anche Orban, il quale sta mantenendo una posizione per molti versi incomiabile di opposizione alla guerra, di vicinanza alla Russia. Addirittura Orban si è seduto al tavolo di trattativa per la pace con la Cina di Xi Jinping, ed è stato l'unico paese europeo, l'Ungheria, a farlo. E dunque Orban ci sembra tutto sommato come Anassagora sembrava ad Aristotele, un sobrio in mezzo a tanti pazzi. Resta da capire che cosa ci facesse a Pontida, dato che la Lega di Salvini, salvo errore, è saldamente dalla parte dell'ordine liberal atlantista. Ha più volte detto di essere dalla parte di Washington, dell'imperialismo statunitense, e non certo dalla parte di Putin, per il quale pure aveva avuto in passato delle simpatie, ma come spesso accade ha ritrattato molto rapidamente, seguendo i venti.